Siamo noi media partner dell'evento? E come ti permette? Allora, per la prima volta vedete due media partner a confronto, Renato e Andrè. Renato, diciamoci Renato, com'è andata questa giornata secondo te? Secondo me è andata bene, se non ci stavate voi era meglio, però è andata bene. Secondo te com'è andata? Ma io quando vi ho visto avrei voluto lanciarvi una pietra, però ho detto no, ma perché già l'ha cantata tanto tempo fa. Invece io devo dire la verità, non è facile trovare delle collaborazioni, quindi chi fa informazioni che molto spesso urta, stringe, fa parlare, invece no, è bella, libera, tranquilla, ognuno con il suo spazio, adesso parla con il suo microfono, io ti parla con il nostro. Siamo facendo un gemellaggio? Siamo facendo un gemellaggio, è un gemellaggio, è un blog che è Road TV Italia. Tra l'altro scusami, uno dei per sempre diceva che si può baciare qualsiasi sia l'orientamento sessuale, allora noi vogliamo dare un buon esempio. Io direi anche no, anche no perché… Ma pure io, ma pure io! Diciamo che il nostro stringerci qua è la dimostrazione di affetto, però possiamo dire che fa un caldo cane? Sì, è che tu sei pure un luogo sudato, lo possiamo dire. Ma da giornalisti indipendenti, ma sta ZTL va bene, non ci hai capito niente. Secondo me fa buono, però se per i media partner c'è strago di soldi forse meglio. Ecco, allora lanciamo un appello, noi media partner lanciamo un appello, noi siamo sempre disponibili con le nostre forze, le nostre attrezzature, molto spesso facciamo le cose grazie a Tamore Dei ma lo facciamo con piacere, però quando ci invitate agli eventi si è scessa una gusarella di soldi, un fiore, anche perché credo che la professionalità di tutti quelli che si mettono in gioco va sempre un poco ripagata, ma pure una su Puglino Panzarotti, una tazza di caffè, ma datecelo, datecelo perché noi saremo sempre presenti, ogni volta che ci chiamate. Esatto, a prescindere da tutto. E comunque noi di Rodotv ringraziamo Napoli Urban Blog perché sono dei ragazzi in gamba che ci credono e quindi noi speriamo di trovare insieme delle modalità di collaborazione senza per forza darci baci in bocca. Ma assolutamente, noi ringraziamo Rodotv Italia anche per questa nuova esperienza, in realtà è particolare, anche in vista del Pride può andare bene, non lo sappiamo, però è bello, come dire, la contaminazione dell'orto sinergica è anche questo, quindi confrontarsi diverse esperienze, diverse idee per qualcosa di nuovo. però vi lanciamo all'appello, grazie per l'invito, ma pensate pure a noi, pensate pure a noi. Rateci un fioro ogni tanto. Ciao a tutti! Grazie, ciao!